Anche a seguito di un'azione istituzionale forte, di un'azione anche mediatica da parte di tutti i mezzi di comunicazione che hanno alzato l'attenzione sul nostro ospedale, c'è stata una risposta in termini di sicurezza che oggi ho avuto modo di riscontrare attraverso tutta una serie di percorsi, sia per l'accesso dall'esterno all'ospedale che all'interno dell'ospedale in cui abbiamo una serie di strumenti, di percorsi che garantiscono una sicurezza che ovviamente, questo va detto, in una pandemia non può eliminare qualsiasi ipotesi di rischio, ma sicuramente lo riduce sensibilmente e consente al nostro ospedale di potersi proporre in questa fase 2 in cui verranno riattivate tutta una serie di attività ordinarie in una condizione decisamente diversa, questo è un messaggio anche che rivolgiamo ai tanti cittadini e ai tanti pazienti, fermo restando che dobbiamo comunicare sempre che in questo momento in ospedale dobbiamo andare solo se necessario. E poi c'è il tema, l'altra domanda, quella relativa al nuovo ospedale, alla nuova struttura, la domanda a cui dobbiamo rispondere oggi è questa, una nuova struttura è assolutamente necessaria, ci sono le risorse, proprio per puntare sull'innovazione tecnologica e dare una garanzia assolutamente diversa di rilancio al diritto alla salute dei nostri cittadini, non solo chiediamo ma pretendiamo che il nostro territorio, che l'ospedale di Teramo, il territorio provinciale, quindi l'offerta sanitaria provinciale, possa essere destinataria, così come altri territori, di risorse, perché è un momento in cui questa emergenza deve porci il tema del miglioramento della qualità dell'offerta sanitaria.